Si allarga l'inchiesta della Guardia di Finanza di Savona sulla casa di riposo la villa di Varazze, svelando ancora maltrattamenti, vessazioni e insulti nei confronti degli anziani, ospiti della struttura. I filmati, ripresi dalle telecamere interne, hanno incastrato altri tre operatori sanitari. Anche loro, due donne e un uomo, sono finite gli arresti domiciliari, come era accaduto per altrettante persone lo scorso 25 gennaio. Immagini crudeli e disumane che facciamo vedere solo in parte. Angherie che andavano avanti da chissà quanto tempo e che non si fermavano nemmeno di fronte al dolore, ai pianti e alle suppliche dei poveri anziani. Comportamenti privi dei più elementari sentimenti di umana compassione, scrive la procura savonese, per i quali è stata contestata anche l'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera e delle condizioni in cui versavano le vittime, tutte indifese, non autonome e bisognose di tutto. E quanto accaduto in questa RSA di Varazze, purtroppo, non è un caso isolato. Sono troppe le vicende simili che la cronaca ha raccontato negli ultimi tempi. Credo che l'emergenza sanitaria a cui stiamo assistendo ha inciso enormemente sul carico di lavoro degli operatori sanitari, proprio sulla loro stanchezza fisica e soprattutto sul loro benessere psicologico, aumentando in maniera esponenziale i rischi di quella che noi definiamo sindrome da burnout. Come si manifesta la sindrome di burnout? Con quelle che possono essere una sintomatologia di tipo ansioso o depressivo o con la perdita del sonno, con un'irritabilità e soprattutto a volte anche con aggressività. Che cosa bisogna fare? Credo che bisognerebbe intervenire immediatamente e quindi dover favorire, favorendo quindi dei servizi di supporto a queste categorie e particolarmente a rischio.